Lei è una delle pioniere della ricerca Open Access, infatti ha pubblicato tutte le sue ricerche sulla viaria. Crede che sia la modalità migliore per fare e diffondere la ricerca? Io ho fatto qualche anno fa un gran rifiuto e ho deciso di pubblicare la sequenza genetica di un virus molto importante per la comunità scientifica internazionale in un database ad accesso aperto perché a mio avviso a fronte di un'emergenza epidemica bisogna lavorare tutti insieme quindi l'alternativa e quello che mi era stato proposto era di depositare la sequenza in un database ad accesso limitato e io ho pensato che questo non fosse il modo migliore per procedere e quindi ho fatto questo gran rifiuto, ho fatto partire un dibattito internazionale sulla tematica della trasparenza dei dati nel campo insomma delle malattie infettive e quindi l'ho fatto perché sentivo che era giusto fare così e questo fatto ha cambiato lo stato delle cose perché oggi le organizzazioni internazionali raccomandano una maggiore trasparenza nella gestione dei dati che arrivano da insomma focolai di potenziale emergenza epidemica Lei ha svolto ricerca in tutto il mondo, come ritiene l'ambiente scientifico italiano rispetto alle altre nazioni? Un po' ingessato e con delle regole che non sono regole di funzionamento universale della ricerca scientifica quindi purtroppo in Italia si applicano dei criteri per selezionare anche gli operatori della ricerca che sono dei criteri diciamo non condivisi nel resto del mondo Perché? La ricerca in Italia si riesce a fare soltanto se si è estremamente determinati e se c'è insomma una fortissima motivazione bisogna secondo me permettere anche a persone un po' meno determinate, un po' meno agguerrite di riuscire a dare il loro contributo Cosa prevede il lavoro suo e del suo staff presso la Torre della Speranza di Padova? Ad oggi non c'è ancora un accordo firmato quindi io mi auguro che la volontà del governatore sia rispettata ma non posso esprimermi perché ancora non abbiamo nulla di certo Grazie